Il suo equilibrio era comunque il pericolo e la scorsa. Perché? Perché naturalmente la prospettiva era diversa. Come ti sei sentito? Ma ti sei sentito? Ma ti sei sentito? Ma adesso vi faccio provare alla nostra amica Robertina. Non fai un'occhiata che simulano un tasso alcolinico superiore a 1,50. Ok? Se lì si condava un obiettivo di sfumante insieme a Emanuele, dopo gli spassi dai, facciamo pure una grappetta, no? E ti fai e arrivi a un tasso superiore a 1,50. Naturalmente abbiamo un tasso superiore a 1,50 e siamo proprietari del veicolo che stiamo conducendo. Molti, questa è la presa, è perché. Non fai, ti fai e permissioni? Però Pen hacemosần, quando? Arrigo. Per me viene in casa, se vuoi社. Ok? Per me viene in casa. e le chiavi di casa devi cercarle a qui a qui